Chi temeva di poter assistere a situazioni come quelle dei mercati di Padova o Napoli dei giorni scorsi ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Prima tra tutti l'assessore al commercio del comune di Lucca, Valentina Mercanti, che ha sollecitato la Giunta affinché venisse riaperto il mercato contadino del Forobuario. E la risposta dei lucchesi è stata quanto mai coscienziosa. L'afflusso è stato ordinato, anche grazie allo scaglionamento dell'accesso all'area a 5 alla volta e non si è verificato nessun assembramento. All'ingresso una guardia giurata ha regolato gli accessi, fornendo agli avventori i guanti protettivi e i banchi del mercato sono stati distanziati notevolmente, così come ben delimitata era la zona di sicurezza tra gli operatori e clienti. Una spesa normale dunque, del tutto simile a quella effettuata presso i supermercati o nei normali negozi del vicinato. Ma allora, il timore lo capisco e non abbiamo sottovalutato nulla. Il mercato era chiuso finché non siamo stati certi che si potevano consentire le condizioni di sicurezza e il massimo rispetto del decreto. Come vedete i lucchesi hanno capito, c'è un'affluenza buona perché è da stamani mattina presto che la gente viene ma molto scaglionata e soprattutto tutti nel rispetto delle norme. Le mascherine stanno in fila a un metro e mezzo di distanza, gli operatori si sono organizzati con i banchi, li hanno tutti recintati, c'è un servizio di vigilanza e quindi credo che insomma anche qua sia un luogo sicuro dove fare la spesa, fermo restando che va privilegiato il domicilio. La ripresa delle attività era stata richiesta a gran voce dagli operatori, dato che il settore alimentare non è stato chiuso e dato che alcune amministrazioni limitrofe, come ad esempio Capannori, non hanno mai interrotto lo svolgimento dei mercati alimentari settimanali. Diverso il discorso per quanto riguarda invece la ripertura del mercato delle tagliate, per cui l'amministrazione nutre ancora perplessità.